Fake news e l'intelligenza artificiale, vanno d'accordo o una batte l'altra? Scopriamolo in questo video. Prima però per riuscire a capire meglio questo ambito, facciamo una piccola digressione sulle varie tipologie di fake news che esistono, che è una parola che include molti tipi di notizia e di contenuto. Il primo è la misinformation, quindi un errore, un errore umano, involontario, quindi c'è sì un'informazione errata, magari di una notizia solamente una piccola frase, ma non è fatta apposta. Per esempio su un articolo c'è scritto che in Italia ci sono 6 milioni di persone. È una notizia sbagliata, ma probabilmente al giornalista è scavato uno zero. Il secondo tipo è un contenuto reale manipolato, quindi la notizia ad esempio è reale, il testo è perfettamente reale, ma magari c'è un titolo o un'immagine falsi o totalmente apparenti o incoerenti con il contenuto, o magari il testo stesso è improntato a persuadere il lettore su una determinata posizione. Ci sono poi le famose bufale, la satira, quelle divertenti, notizie che sono palesemente false, fatte apposta per far ridere. Vedi per esempio il sito lercio.it, è impossibile che la Puglia decolli perché ha troppe pale eoliche, però anche qui bisogna comunque avere una certa attenzione. Certe volte il confine con la realtà è sottile e magari chi pubblica l'articolo non dice in modo esplicito che si fa per scherzare. L'ultimo tipo è la classica disinformazione, quindi notizie palesemente false, inventate apposta per trariningando le persone, per generare condivisioni, per far parlare di quel sito e poi parleremo meglio di questo ambito, o magari per far perdere consensi ad un avversario. E allora vediamo il ruolo dell'intelligenza artificiale tra tutti questi tipi di notizie e di contenuti. Come ogni sistema di intelligenza artificiale, anche quelli dedicati alle fake news devono essere istruiti. Bisogna quindi dargli in pasto molte notizie false, ma anche molte notizie vere per andare a capire quali sono le caratteristiche di uno e per capire le differenze. Questo è ottimo perché il sistema sarà in grado di riconoscere le notizie false, ma potrebbe anche essere in grado di andare a generare notizie false il più simile possibile a notizie reali, dato che conosce le differenze. Insomma, l'intelligenza artificiale in questo ambito è un'arma a doppio taglio. Partiamo dal primo scenario, l'intelligenza artificiale che supporta le fake news, ma potremmo dire anche più in generale le notizie, perché i sistemi automatici possono sia creare da zero delle notizie, ma anche prendere notizie già esistenti e modificarle. Modificarle in base a cosa? In base alla volontà umana. Infatti vi ricordo che dietro ogni sistema di intelligenza artificiale c'è sempre un umano che dà il comando e che dice cosa andare a fare. Pensate che il NewsGuard, una società che si occupa proprio di prevenire la disinformazione, ha recentemente trovato 50 siti interamente gestiti dall'intelligenza artificiale. Notando che un po' tutti avevano un lessico molto semplice e ripetitivo e soprattutto sono pieni zeppi di pubblicità e tracker, perché il loro unico scopo è guadagnare. Profitto che può derivare da notizie false, che quindi vanno ad attrarre un pochino i lettori, ma anche da titoli particolarmente persuasivi di notizie reali. Infatti la stessa NewsGuard ha dichiarato che alcuni di questi siti dicevano notizie reali, soltanto che modificate per attrarre l'attenzione degli utenti o magari per essere posizionate tra i motori di ricerca, quindi creare un testo più SEO addicted. Parlando invece di Chatbot, quindi ChatGPT, Google Bard, queste intelligenze artificiali di uso comune, ecco questi potrebbero essere un esempio di misinformation. Infatti sono algoritmi in alcuni casi non ancora perfetti, quindi possono fare dei piccoli errorini, come per esempio in questo caso il festival del film di Brescia, che però non esiste. Altro pericolosissimo utilizzo dell'intelligenza artificiale sono i deep fake, quindi audio di una persona, magari famosa, che va a dire qualcosa generata da intelligenza artificiale, quindi questa persona non ha mai detto e spesso, quasi sempre, ancora peggio, un video della persona che lo dice con tanto di bocca che si muove a ritmo, una cosa pazzesca che ci fa capire quanto è potente l'intelligenza artificiale, ma anche quanto possa essere pericolosa. Perché se i piccoli sistemi che hai trovato online per farli sono molto imprecisi, quelli professionali e sviluppati apposta sono estremamente realistici e molto spesso non ci si accorci, come in questo video che state vedendo sopra. Bisogna proprio fare attenzione ai minimi movimenti della bocca. E quindi anche in questo caso, se vedete un video di una persona famosa che dice qualcosa, magari di un po' particolare, approfondite subito la questione. E ora invece vediamo l'altra faccia della medaglia, con l'intelligenza artificiale usata come contrasto con le fake news. Ci sono veramente un sacco di progetti ed esperimenti, molti fatti direttamente dall'Unione Europea, come il primo Good News del 2018, che andava ad analizzare il modo in cui si diffonde una notizia, per capire se questa è vera o questa è falsa. Non è ovviamente la soluzione definitiva a tutto, perché è molto impreciso e molto variabile, però è comunque un punto di partenza e una visione particolare dell'argomento. Questo progetto è stato creato anche perché qualche anno prima Twitter aveva fatto uno studio in cui concluse che le notizie false hanno il 70% di probabilità in più di essere condivise e raggiungono 1500 persone 6 volte più velocemente delle notizie vere. Inoltre notavano che le notizie false avevano più condivisioni, mentre quelle vere più like e commenti. Altro progetto sempre nel 2018, Fandango. Questo invece è più incentrato sul contenuto di una notizia sul controllo incrociato delle fonti, sulla ricerca di correlazioni tra foto e testi. È stata un po' una palestra di vari algoritmi e di vari sistemi, a termine della quale hanno scoperto due cose abbastanza scontate, ovvero che l'intelligenza artificiale non basta, ma serve sempre un intervento umano. E l'intelligenza artificiale, oltre a dire che una notizia è falsa, deve anche spiegare il perché, per aiutare poi il giornalista magari a rispiegarlo alla popolazione. È invece in corso sempre dall'Unione Europea e il Fortrust, un progetto sempre contro la disinformazione coordinato dalla fondazione Bruno Caster di Trento, quindi pure italiano abbattato su ciò che è stato scoperto con Fandango qualche anno fa. Sarà un sistema a disposizione principalmente dei giornalisti per andare a verificare in modo più semplice e anche più accurato se se una notizia è vera e falsa e quindi poterlo comunicare agli utenti. Qual è il vantaggio? Avere più precisione, ma anche fare più velocemente e quindi poter controllare più notizie e soprattutto andare a smascherare notizie false dopo poco dalla loro pubblicazione, dato che un'altra funzione del sistema è quella di andare a controllare continuamente i vari social network e andare a prendere tutto ciò che viene condiviso. Tra l'altro questo può anche essere molto interessante per ricercatori e scrittori, per andare ad analizzare alcuni studi o testi universitari e capire non tanto se sono veri o sono falsi, ma magari se c'è qualche inesattezza e quindi andare a evitare di condividerlo ulteriormente o anzi andare a smentirla. Spostandoci invece in America degli studi del MIT guardano con un'altra prospettiva le notizie false. Hanno infatti notato che se il link della notizia contiene molti caratteri speciali, caratteri particolari, parole senza senso o molte sotto directory, ci sono maggiori probabilità che questa sia falsa. Andando poi ad analizzare il dominio in questo mega archivio, se si nota che quel dominio ha già pubblicato in passato molte notizie false, ci sarà maggiore probabilità che anche quella lo sia. Tra l'altro l'intelligenza artificiale che genera fake news e quella che le contrasta continuano a rincorrersi, infatti un sistema di intelligenza artificiale sa come scrive l'intelligenza artificiale e quindi ha maggiore probabilità di riconoscere un testo scritto da un computer. Anche qui c'è uno studio e dice che il tasso di riconoscimento di contenuti scritti appunto da un'intelligenza artificiale tra gli studenti di elaborazione linguistica è del 54%, mentre tra sistemi di intelligenza artificiale è del 72%, quindi sono più precisi. Insomma progetti molto belli, interessanti, anche in questo caso però l'intelligenza artificiale da sola non fa nulla, serve sempre l'intervento umano e in particolare una forte collaborazione con giornali, siti di fat checking che anche adesso si fa manualmente e soprattutto social media per andare ad informare gli utenti in modo più rapido e chiaro possibile che quello è un contenuto falso, andandolo a oscurare o comunque limitando la diffusione. Una cosa comunque è gentile da twitter con le community notes degli utenti verificati possono andare ad aggiungere delle informazioni contestuali sotto un post per andare a specificare meglio qualcosa o correggere una notizia o ipotesi falsa. Ad oggi, a di là di questi progetti e studi, non ci sono sistemi su larga scala che vanno a contrastare le notizie false, quindi forse vincono le intelligenze artificiali che scrivono fake news e che vanno a manipolare le notizie, ma in futuro sicuramente la situazione cambierà. Insomma, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto e che l'avete trovato interessante. In descrizione trovate i riferimenti a qualche studio che vi ho citato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!